Ehi fratello benvenuti in un nuovo video! Oggi fratello facciamo una challenge su Fortnite Faremo partire dei video da YouTube in cui ci sarà un quiz con diverse armi a schermo Noi dovremo sentire il suono dell'arma che ci verrà presentato e scegliere tra le armi che abbiamo davanti Qual è l'arma giusta che sta facendo quel suono Facciamo questa sfida assieme e vediamo chi fa meno errori Mi raccomando per questa challenge lasciate un like, iscrivetevi al canale e non perdiamo altro tempo Io parto con il primo video ma ditemi nei commenti quante ne riuscite ad indovinare voi, le contiamo assieme Questa qui è il lanciagranate A E quella natalizia, il lanciagranate natalizio che sono molto convinto Infatti dai, questo era semplice Questo è lo scar, vabbè questa se non la indovinate ragazzi dai Questa è la D, palese, questa è banale se devo essere sincero, sì dai Questa era semplice, prossima Oddio, eh no, B, B ok, non sentivo le granate esplodere, è la B decisamente E il C, fratello già lo sai, già lo sai La A, questo è il fucile a pompa singolo, è decisamente la A Se fosse comparsa la D avrei avuto problemi, ma è la A Ok, io mi diverto facendo queste cose, vediamo B, questa è la B Lo ricordo dalla clip di Ninja in cui faceva un casino È la B ragazzi, sì E infatti Prossima, vai Questa è la C, è la pistola normale, classica Voi le state indovinando, come state andando? Non so ragazzi, siete dei veri OG Ok, questa è la C Questa è la D, ed è l'arma con l'Agog Il fucile d'assalto con l'Agog Non l'ho mai usata questa, devo essere onesto Non mi è piaciuta particolarmente Oddio È la C Sì, è la C Stavo facendo confusione con la B Ma la B fa un suono, diciamo, di paura all'inizio Vabbè, questa è la D La mitica boogie bomb Questa, a confonderla è impossibile Credo che la conoscano anche chi non ha mai giocato a Fortnite Il mitico tre colpi Vabbè A ragazzi, A Decisamente, ma che ricordi Mi manca un sacco quest'arma Questo dovrebbe essere il B Però ho un dubbio col C Io dico B, io dico B Ok Solo che il C non saprei come suona Ragazzi, dico A Ma potrebbe essere D Dico A, dico A Uh, è andata bene Dai, che i miei ricordi non mentono Potrebbe essere la D Io dico D Mamma mia La fumogena non me la ricordo assolutamente Ma c'era, sì, però Vabbè, questa è la B Questa è la B, sì Vabbè, la mitraglietta silenziata Vabbè, questo si può riconoscere anche se non conosci Fortnite Ok Vediamo La A Questa è la pistola silenziata Un'arma che io ho sempre adorato Non mi pare più ci sia L'hanno levata da un po' Questa l'avevo rimessa Vabbè Ovviamente col deposito poi fanno sempre un casino in Epic Games Vabbè Questa, questa non la dico neanche Questa non ho proprio voglia di dirla La C Dai Dai Questa è l'assalto classico La A Mamma mia Sentire il fucile d'assalto classico Il fucile a pompa classico di fila È È un'emozione fortissima Questa è la A Eh, ci ho dovuto pensare qui, eh Ci ho dovuto pensare Questa è la C È il lanciarazzi col suono creepy di cui vi parlavo prima Ok, fratello La D Questa è la minigun Questa è decisamente la minigun Per come spara veloce Ma mi ricordi la minigun Ci fece un video In cui provavo la minigun E facevo una vittoria reale Che tempi Questa è la C È il fucile Cioè il fucile, scusarmi Il lanciarazzi a proiettili guidato Pure con questo Ci fece un video E ci fece una vittoria Quanto tempo La D Questa è la mitragliatrice leggera Anche se per esempio La B non la conosco Ma è di salvo il mondo La B Ma Che strano Vabbè Comunque sì Decisamente Bella Dai Questa era la prima Passiamo alla seconda E questa dovrebbe essere un po' più complicata Spero anche perché Quelli che abbiamo visto Era piuttosto banalotta Allora vediamo Ah qui ce ne sono di più Oddio la 3 No la Questa è la 7 Questa è la 7 Io vi dico la 7 Ah grande Questa è più complicatuccia Eh Attenzione È la 2 Sì sì È sempre la 2 Solo che Ha un suono diverso rispetto a prima La minigun È la 2 Va bene Lusca la vista Bella così Prossimo È il 5 E il lanciarazzi A 4 colpi È la 5 Sì Per come ricarica Si sente Vabbè Si sentiva Questa era semplice Allora Fatemi vedere tutti È il 3 No Questo è il 6 È il 6 È il 6 Il fucile Mamma mia Ok Stavo facendo un fucile Ma ce l'ho Prossimo È la 3 Questa è la 3 Ne sono molto convinto È l'SMG Nella versione vecchia Perché ormai ce n'era Una nuova Aggiunta di recente Forse l'hanno anche voltata Con la nuova season È la 3 però Sì Il suono è indeciso Tra la 7 e la 8 Dico 7 No È la 8 No Non ci credo Non me la ricordavo Ragazzi questa Allora Questo è il combat 7 Palese Questo è semplicissimo Dai Questo è proprio bad Il combat Su Non perdiamo tempo Vai vai Quelle che magari sono certo Ragazzi punto avanti Cioè punto avanti Gli 5 secondi La drum gun Ma non la vedo Ah no c'è la 5 Vabbè ragazzi La 5 Drum gun Sì infatti Era valese Prossima Vai vai Questa è la 1 Questa è la 1 È il fucile che non ho mai utilizzato Perché non lo sopportavo È quel fucile ACOG Strano Sì infatti Prossima Vediamo che ci riserva Doppia pistola È la 4 È la doppia pistola Decisamente la 4 Carine eh Non sono scontate Specialmente perché Molte sono vecchissime Scar Scar Decisamente scar Infatti sì Palese Eh 4 Vi dico la 4 No Cavolo 2 ne ho sbagliate Uh Eh ragazzi Io vi dico la 2 Io vi dico la 2 Mamma mia Qui ho rischiato Tutti i fucili di precisione uguali La 4 Questa è la carabina Questa è la carabina Decisamente Non so perché abbiano messo La Desert Eagle Ma questa è la carabina Dai questa ci sta Vediamo vediamo Ultima eh 6 6 Sì Questo è il fucile a pompa A muro Mamma mia Eh devo dire che Molte di queste Non erano scontate Fatemi sapere anche voi Quanti errori avete fatto Scrivendomelo nei commenti Io solo 2 Se vi è piaciuto questo video Lasciate un like Così magari ne farò un altro Iscrivetevi Attivate la campanina Altrimenti ve lo perderete Noi intanto ci becchiamo Alla prossima Ciao Grazie a tutti.